Amiamo molto gli animali, sono la nostra vita perché sono una cosa speciale per noi, meglio loro che le persone a volte, sono più fudili di loro che la gente, c'è molta cattiveria, mentre loro ti danno tanto affetto, tanto amore, non gli chiedono niente, solamente acqua, mangiare, carezze, baci, cocco e tutto il resto. È la prima volta? Sì. Che emozione le ha dato? È molta emozione, sto ancora felice. Come si chiamano? Emi e Cicchi, lui Cicchi e lei Emi. Cani, gatti, uccellini, criceti e chi più ne ha ne metta. Nel giorno dedicato a Sant'Antonio Abate si rinnova la tradizione della benedizione degli animali nella chiesa di Sant'Anna a Barivecchia. È una festa capace di unire grandi e piccoli che in questa giornata si ritrovano per mettere i loro animali domestici sotto la protezione del santo dalla lunga barba bianca. In molti conoscono la tradizionale benedizione delle 19 che precede un piccolo corteo degli animali con i loro padroni per i vicoli di Barivecchia. Ma in realtà pochi sanno che la chiesa di Sant'Anna nel giorno dedicato al protettore degli animali è aperta tutto il giorno. Alle 9 si celebra la prima messa, la successiva alle 11. Al termine il sacerdote permette agli animali, accompagnati dai loro padroni, di entrare in chiesa per la benedizione. Io ho preferito quest'oggi dover chiedere il nome dell'animale e quindi per ciascuno, come faccio con i bambini la domenica, quando vengono per essere benedetti i bambini, chiedo il nome, beh per loro impongo la mano sul capo eccetera. Io che non ho molto coraggio con gli animali ho tentato perlomeno di essere sicuro, di confidare in Dio e in me stesso e ho voluto però che ognuno ricevesse assieme ai padroni, perché è chiaro che distaccare l'animale anche dalla persona umana mi sembrerebbe un obbroprio per quanto concerne ciò che è la volontà di Dio. Quindi al servizio dell'uomo ma rispettato dall'uomo.